Grazie Noi siamo già in campagna elettorale per quanto ci riguarda noi abbiamo ottenuto i voti che poteva ottenere un partito che si è presentato contro tutti sotto una campagna formidabile d'odio che ha devastato la campagna elettorale vera e propria noi siamo coscienti che questo che abbiamo ricevuto, questo risultato abbiamo ricevuto un risultato in crescita abbiamo raddoppiato oltretutto rispetto alle ultime elezioni e cresceremo con forza parallelamente alla nostra forza militante che è in crescita esponenziale Oggi denunciamo con forza che al municipio 5 sia garantita l'agibilità a questi quattro pisciatori di forza nuova che non hanno alcuna agibilità politica a Milano, mai l'hanno avuta e mai l'avranno Io ho fatto questa mia scelta per una questione mia ideologica quindi io ho trovato in forza nuova un modo di far politica che è coerente con il mio modo di far politica che sarebbe quella di stare sul territorio di stare accanto agli italiani in modo concreto cercando di risollevare quello che è appunto lo stato di degenza ma non è questione della Lega lo faceva o non la Lega non lo faceva io mi ritrovo più in quello che è il programma di forza nuova L'ho detto mille volte se essere fascisti significa essere a fianco della patria della famiglia dei grandi valori tradizionali e dello stato sociale sì se significa altre cose non mi interessa Fascisti, caroglie donna a tenere le cuore Oh battigiano portami via Oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao Oh battigiano portami via che mi sento di oggi E se io voglio da partigiano Oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao E se io voglio da partigiano tu mi devi seppegli